Sì, bene, passiamo subito al nostro corrispondente da Parigi, il professore, poi sappiamo benissimo che opera anche nella Air France, capitano della Air France, il professore Jacques Piston che vuole porre delle domande, direttamente lo abbiamo in collegamento da Parigi, prego professore. Sì, buonasera, è molto interessante, ovviamente io porto i miei saluti da Parigi per il grande maestro, di cui noi abbiamo qui a Parigi grande rispetto. Vorrei entrare più nello specifico, soprattutto ci racconti, maestro, del padre di Boccaccio, perché non sappiamo ancora molto. I Bardi, questo gruppo economico che a Firenze era molto influente, sappiamo che anche finanziava i grandi re, l'influenza del padre, soprattutto su Boccaccio e per favore sull'eterrato Boccaccio. E qual era, gentilmente maestro, l'idea di Boccaccio? Bene, maestro, prego. Il padre di Boccaccio acquisisce questo figlio e gli vuole bene, l'ammirazione, capisce che ha qualcosa di straordinario e lo porta con sé anche il giorno delle nozze con la nuova moglie, ecco che se lo porta presso e impone che questo ragazzino sia allevato insieme agli altri figli che nasceranno e anche quando se ne va fuori di Firenze e soprattutto fa trasloco e se ne va a Napoli, bisogna sempre ricordare che il padre di Boccaccio era prima un mercante, poi era diventato un ottimo banchiere ed era in combutta con i Bardi. era una famiglia di banchieri straordinari, importante, che prestavano denari ai re di Inghilterra e ai re di Francia, è veramente un posto notevole, importante, ecco. E se ne va a Napoli e cerca naturalmente il padre di indurre il ragazzino a imparare questo mestiere, a studiare la domanda da persone che potrebbero insieme, ma lui è innamorato di tutt'altro, ha un'idea completamente diversa della vita, vuole fare lo scrittore, ama la letteratura e il padre non riesce a convincerlo a cambiare registro e modo. Lui continua naturalmente ad aiutare il padre dentro il gioco del commercio, degli affari, che lui odia, tant'è vero che in una delle sue novelle mette addirittura subito al primo piano, il primo testo che pone alla lettura è proprio quella di un banchiere, uno che però è incaricato nella banca a ritirare il denaro, un esattore che va intorno proprio a ritirare con modi brutali quello che è il prestito e pretende naturalmente i vantaggi giusti e naturalmente arriva a ricatti e proprio ruba, deruba la povera gente disperata portando via loro le case, un lavoro ignobile e lo mette subito in primo piano questo personaggio, nel momento in cui dopo aver raccontato che cosa sta combinando, che cosa ha combinato nella propria vita, si sente morire e c'è questo gioco veramente di grossa invenzione. il discorso che lui fa, quasi un monologo di presentazione a se stesso, viene ascoltato da due giovani i quali l'hanno preso in casa, l'hanno accolto in casa, l'hanno ospitato come si dice e si rendono conto di questa dichiarazione di questo raccoglitore di denaro forzatamente ecco che questo è un pericolo per il loro futuro, perché quando questo muore, proprio senza indicazioni, proprio un anticristo che è un bestemmiatore e si verrà a sapere della sua vita e di quello che ha combinato, ebbene a loro, a lui lo scaricheranno in una guandra, come si dice, dove buttavano le immondizie e loro perderanno di onore e soprattutto considerazione da parte della gente. Fatto sta che ascoltando i lamenti e le preoccupazioni di questi giovani, questo nostro personaggio brutale e soprattutto cinico, si commuove di questa situazione, perché i due ragazzi dicono con tutto che sappiamo che è un infame dobbiamo rispettare la persona e dovremo fare in modo di tenercelo qui, non importa se ci salta addosso tutto, non importa se saremo ritenuti degli infami a nostra volta, il nostro dovere è di fare in modo che venga seppellito da cristiano ugualmente. Si commuove di questa cosa e allora dice, state tranquilli, io sto per andarmene, però voglio parlare con una santa persona, gli portano naturalmente un prete, un monaco veramente eccelso, con una moralità straordinaria, un senso della religione pulita, chiara e generosa, ecco che questo arriva, ascolta il moribondo e questo gli racconta dei propri peccati dicendo che sono orrendi, che non so se lui potrà ascoltarli, invece di raccontare i veri peccati si inventa dei peccati inesistenti, a un certo punto ha pensato male della madre, a un certo punto soltanto nel pensiero la maledetta e per questo gli è capitato addosso un dolore, una disperazione che si tiene sempre addosso e poi in molte casi ha mangiato con gli amici, non pensando alla fame di quelli che stavano intorno e si è affacciato, ha dato qualche mancia, ha dato qualche soldo, ha detto anche qualche parole ma soltanto parole, non è intervenuto come doveva e capire che il dovere di un buon cristiano è di dare tutto quello che si ha anche oltre la misura e poi ha detto le donne, io ogni tanto ho queste donne che mi passano davanti e sento un desiderio, mi trattengo, mi fustigo, riesco a evitare, ma già il desiderio è un peccato vero, è un peccato terribile desiderare così fortemente e in modo scellerato una donna soltanto per farci l'amore.